Musica Musica Restuccia Grande parata ancora di Nicola Riesbaglia Attenzione trovato davanti al portiere Restuccia Una Ingresso ancora per il signorino Una Cerca lo spazio Ancora una Si capisce il dono con grasso Attenzione Il tiro Ancora lui Non va Arrivato ancora per il napoli Restuccia Restuccia Ancora qua trovato Trovato Salta il portiere E ancora lì la palla Musica 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 Senza fredda Senza fredda Signorino Punta il tiro Con le provate Se ne vai Tiro Restuccia E' il 2-1 per il napoli Cristian Restuccia Tortorella Una bella palla Centrale per il grasso Il grasso di Nacca Signorino E' il pari della Roma Era tutto da giocare Sicuramente la Pulcini Siamo sempre delle partite Molto combattute Molto bene Signorino per il grasso Che fa un'ottima sponda Ancora Signorino La rete Di Fabio Signorino Punta Signorino Il tiro Trovato Grande aggancio Prestuccia Grande Invece di Palla Ancora per Signorino Signorino Per Tortorella Ancora per Buona Gioca sempre laterale Ancora lui C'è un compagno Invece se ne passò Non passa Attenzione Salta Salta Signorino E' la rete Di Stefano Lucchese E' la rete Si è fiammata Proprio come ho fatto E' la rete E' la rete Signorino Lucchese Davanti la porta Di Pedro Ancora Lucchese Tiro un compito Trovato Ancora una finta Trovato Trovato Prestuccia Colpa di Tocco Bellissimo Minutoli Il tiro E' ancora Nico Garrico Ancora trovato Trovato Sempre sul mancino Trovato Il tiro E' ancora Nico Garrico Sempre con i piedi Ciao Peppe Ancora trovato Ma grande anticipo Di Fabio Tortorella Tortorella Quattro Lo sto vedendo Molto in forno Si si E' entrato In partita E' sicuramente Una buona Di Fabio Tortorella Perché Tutto può cadere Ricordo Trovato Trovato Prestuccia Ancora una grande Trovato Prestuccia Prestuccia Ancora per il minuto Che tenta il tiro Ancora Nico Garrico Dele Forminabile Ricordativo Anche in queste circostanze Ricordiamo il parziale Ancora Nico Garrico Con la scelta Di Fabio Tortorella Trovato E' per Prestuccia E' il gol Del 4 Trovato molto signorino Se ne va sul mancino Ma adesso per Prestuccia E' il gol di Cristian Prestuccia Il tiro E' grande parola Di Marco Di Pietro Signorino Cuore il pallone Grasso E' il quinto fallo E' il quinto fallo Per gli azzurri Benzogno Non trova la porta Signorino Attenzione Regalava la cordonella Trova un gol Molto schiacciato Forse il time out Sarebbe anche giusto Attenzione Dele Recupera palla Per la Munho Che manda In campo aperto Grasso Grasso Quanto di Pietro 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 Ancora il possesso Scala la mano su Signorino Adesso laterale Per Munho Gioca sul Grasso Ancora Grasso Andiamo Andiamo Quanto di Trova Quanto di Trova Quanto di Trova Sembra non finire Ma Si Molto di equilibrio Trova una bella palla 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 Bravo Bravo Cominciamo Sali Sali Marco Sali Bravo Trova Se ne fa sul mancino Il tiro La lente Di Salvatore Trovato E salita Palla per essuccia Per essuccia Ancora per trovato Recupera palla La passata Spostando un po' più avanti Attenzione Tortorella Bravo Il tiro Sali Trova una bella palla Tortorella Marta Trova una palla 3-1 Resuccia Trovato Trovato Cresce la partita In Napoli Vince La Pulcini Veramente una finale Molto bella Cine Ruc Molta a sé Grandissima partita D'applausi Un applauso Veramente Per tutti I calcioi Con il numero 1 Emanuele Altadonna Faccio sempre Un applauso Facciamo un applauso Piero Piero Giuffrida Giuseppe Verde Un applauso a Milan Che è arrivato direttamente in finale Scusate Emanuele 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 Partiti Partiti Emanuele Partito subito Il Milan Percevallo Per spiegare Consignore Non mi ricordavo il cognome Ancora il Liverpool Che cerca la conclusione Che cerca la conclusione Con la conclusione Buon signore Buon signore Che cerca un compagno Lo trova In Martínez Martínez Cerca l'1-2 Con Buon signore Buon signore Ancora il Liverpool Con Conclusioni Anche se solo una Nello specchio Della porta Però devo dire Che il Liverpool Sta giocando In modo arrimato Adesso è il numero 6 Emanuele Non raccomando Emanuele Non raccomando se sarà così E così è però La barriera di parte Quindi Del tiro di Giovanni Siracusa Ancora vediamo Il campo del caffetto È venuto Mazzurro La parola Intanto Palo Per Il Milan Siracusa Siracusa che fa Intenza Si si sta giocando A ritmo molto veloce Il Liverpool Ha fatto una cortina Il Milan Però qualche seconda Fa colpito palo Su una punizione Molto di decisione Quindi diciamo Che fondamentalmente Il paradosso È stato sentito Sul piatto Con il Liverpool Che ha fatto almeno Una piccina Ma sta giocando I nostri fuori Però riparte ancora Il Liverpool Con Bocchier Bocchier Tra due avversari Cerca Un avversario Quindi deve Indietreggiare Può ripartire da dietro E giochi in orizzontale Con De Casale Da fuori Quindi adesso Possesso palla Per il numero 6 Romeo Che Devoca con il compagno Anche ultimo Il numero 8 Di un filo Antese Anche lui Entrato Subentrato a verde Antese E' un po' più distanza Più distanza più robusta Che non è Il pallone Adesso riparte Bonsignano Bonsignano che cerca A per Bonsignano E' un po' di partire E' un po' di partire E' un po' di partire Ma deve stare molto A trovarlo Adesso Martinez Martinez Che serve Pantò e Pantò Che taglia Per Monsignano E' un po' di partire E' un po' di partire Basta Che poi viene fermato Beh vediamo La conclusione Chi non è Iniziamo del Poi E' sempre più facile Adesso riparte Il live Vediamo chi andrà E' ancora una parata Da parte di Algeronna Però viene poi chiusa Adesso ancora Adesso riparte il live Il pulsino 3 contro 1 Però sbaglia la visita Del passaggio Quindi con il partire Giuffino Giuffino Che ce ne va in percussione Cerca la profondità Serve il numero 6 La prima di squadra Che però sbaglia La misura del passaggio Quindi di parte Il live Pullucano Pantò Pantò Che su destra Senta il migliorno Devo dire che La Pazzecappa E' stata veramente Veramente bella Da vedere Per tutti quanti Ciao 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 C'è 5 esce Completamente Proprio Ma di passaggio E' un po' di partire E' un po' di partire Ciao 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 Grazie a tutti. Il Milan adesso, prima faceva sempre la partita in Liverpool, adesso il Milan deve attaccare con il lupo migliore. Il risultato, grazie Tony, ha avuto un pittore. Adesso riparte il Milan. Il numero 6. Adesso è l'imparte. Ticca sale, ticca sale, per quanto? Il Milan è ancora attesa, viene fermato però attivamente da Marchezza. Che però poi... Arriva il primo rincosso. La palla in rete, numero 3. Calpo, Calpo ha segnato per la formazione del Panna. Adesso quindi 1-0 per il Milan. Adesso Consignore sulla palla. La palla in russo. Ti ricordo che sarà il mio giocatore. Vediamo adesso Giubbida. Giubbida è in rete 2-0. E adesso vediamo quello che succederà con Martinez dai 6 metri contro il portiere russo. E non lo avrete, non lo rimane a galla. Ma adesso, caro Tony, se il numero 10 basta, segnerà, il Milan alzerà al cielo il suo trofeo di Punt B. Ciao Giubbida. Vediamo il posto. E non lo è in rete, divice il Milan. Quindi, portiere, secondo me, protagonista russa, però ovviamente adesso i direttori di gara vi daranno i migliori in campo. Secondo te? Aspettiamo, aspettiamo un attimo il mettere il direttore di gara, i migliori in campo. Devo dire che tutti i 12-14, un grande complimenti da parte nostra. Sono della grande... I migliori in campo hanno dato ok a me, a Tony e a Grillo, che ringrazio ancora di essere qui, per l'evento finale che calerà il simbario sulla Serie B Ainis 2014-2015. Quindi iniziamo ovviamente, come giusto che sia, dalla formazione che ci è arrivata diretta in finale. La Lazio di Simone Lopresti, in porta, Giuseppe Rasi. Facciamo un applauso ragazzi, facciamo sentire il calore del Grillo Cerainis. A seguire, Simone Lopresti, Roberto Suria, Gianluca Finizzotto, Simone Gazzetta, Francesco Cannata e per finire Giovanni Pellegrino. Questa è l'organico che ha guadagnato l'accesso diretto alla finale del derivato prima nel Girona Italiana di Full A. E adesso, la settima finale di fila per gli uomini di Capitan Chierchia, iniziano con in porta, Nino Tortorella. Il capitano e responsabile, Ciccio Chierchia. Un ritrovato era oro finalmente, Jonathan Cento. E poi, uno dei bomber più conosciuti, Domenico Rocamo. E qua mi passa forte il cuore perché con il numero 10 entra in campo, Kikko Spank! Daniele Crufi! Te l'avevo promesso, grande! E poi il numero 5, altro grande amicone della nostra struttura, Ben Niko Stasso! E poi un altro talento, costruito in casa, numero 13, Nino Giuffrida! E per finire, la pallina, si chiama Peppe Migliardi, numero 7! E poi ancora, Nunzio Barilà e Lillo Cucinotta. E per finire, chiamiamo, con anche qui una bella emozione, il responsabile, o meglio il presidente, Sebastiano Chierchia, Chierchia Junior. Ciao, Seppi! E ovviamente, con tanto di telefonino in mano, il nostro direttore di gara, Gaetano Morvino, grazie! E' continuato sempre dalla Sera Primarchi in regia. Grazie ancora per l'emozione che ci pareggia provare tra poco. Un ringraziamento ai bambini che vengono al cielo con tanto orgoglio ed è bello perché la genuinità dei bambini è unica. Quindi siamo tutti per il momento di... Eh, lo so, avremo qualche difficoltà a riconoscere i giocatori della razza in quanto non hanno i numeri, tranne Simone Lopresti, mi pare che non conosciamo nessun altro. Vediamo di... Anzi, a chi è inizio dell'associazione Donare e Vita di Corrado Gazzara. Corrado Gazzara che ha 42 anni ci ha lasciato per donare al Gaetano Lestrando che è qui, questa serpita è fra di noi. Si è partiti, abbiamo preso il canale, però Tony sei una macchina da guerra. Sei precisissimo. Subiti possesso palla... Il primo lancio in profondità per Pimizzotti, è uno dei pochi insieme a Simone che conosco. Adesso se ne va sul Mancino, il numero 21 a Roccavo. Vediamo un po'. La Lazio in posizio palla, cerca la percussione sulla destra, però viene fermata subito da Chiette. Chiette che riparte, riparte sulla sinistra, velocissimi, sono giunti di in tre. Prima verte! Grande incursione di Ciccia Chiette. La Lazio sta cercando di acuire la botta perché il Manchester City è veramente molto aggressivo. bellissima adesso la conclusione di Cannata. Grazie Antonio, rimarrai qui per darci supporto per quanto riguarda i cognomi dei giocatori del Lazio. Perché purtroppo non avendo il supporto delle magliette non possiamo purtroppo avere una giusta visione dei calciatori in campo. Adesso è Giuffrida che alleggerisce per Costanzo. Costanzo che taglia il campo per Roccavo. Roccavo per Chiette, autore della rete dell'1-0. Non l'abbiamo segnata, la dobbiamo segnare avendo la penna. Adesso Roccavo sulla sinistra. Sì, perché si può fare la partita alla Lazio e il numero di svantaggio. Adesso finisce la passione. Se ne va sulla sinistra, gran parata di Tortorella. Tortorella che vorrei dire, vorrei ricordare, l'anno scorso la finale è stata persa anche malamente dalla squadra di Chiette. Però Tortorella che due anni fa è stato grande protagonista. Adesso se ne va Giuffrida, velocissimo. Velocissimi minuti con una rete fantastica. Adesso c'è la parata di Rasi che fa ripartire i suoi. Sulì è in a qualsiasi palla per Cannata. Cannata cerca la verticalizzazione per Pinizotto. Pinizotto che cerca di liberarsi molto. Vediamo un po'. E adesso ci sono i direttori della riva, sinceramente. Però Tortorella ha anche nell'etica sportiva una delle sue qualità. Quindi bravo. Adesso Chiercchia. Chiercchia che sulla destra cerca Giuffrida. Giuffrida che alleggerisce ancora per Chiercchia. Chiercchia per Benny Costanzo. Benny Costanzo che c'è contro un compagno. L'Otto di Roccavo. Quindi non riesce a fare la spalla. Chiercchia per Costanzo. Gira molto bene la palla. Il Manchester City. Ancora Costanzo. Costanzo che serve a Roccavo. Girano tutti gli effettivi della formazione del Manchester City. Quindi poi la profondità di Costanzo che finisce per dare la palla a Razzi. Razzi con... Che serve. Oh! La palla. Bello adesso il gioco di cambio di Benny Costanzo che cerca la profondità. Molto bravo Benny Costanzo però viene fermato. E adesso può ripartire la Lazio con Chiercchia. Chiercchia che protegge il pallone ma rimasto da solo. Contro due a Bessari. Bravissimo. Dara la palla al suo capitano. Ancora Chiercchia. Cercchia 1-2 buona Roccavo. Roccavo molto bravo per Benny Costanzo. Benny Costanzo che davanti al portiere cerca di ripersare. Roccavo molto bravo. Però è ripartita adesso Finizzotto. Finizzotto. E serve Soria. Soria per Cannata. Cannata per Gazzetta. Giusto? Gazzetta. Un gioco di gambe. Però Roccavo gli chiude la porta adesso. Gran tiro di Gazzetta che è in 15 metri. Però per andare è prontissimo. Riparte quindi Giuffrida. Giuffrida che se ne va. Adesso la sinistra. Senta la tecnica di Costanzo. Pedonazione. La palla per Roccavo. La retta. Giuffrida che se ne va sulla destra. Senta Roccavo. Roccavo che viene però fermato da Rasi. Bravissimo il portiere della Lazio. Quindi luna di fatto. La partita adesso si fa a vincere. Vediamo un po'. Adesso grandissima. Gran confusione di Roccavo. La palla è parata. Inizio di appello il tunnel. I danni di... Vediamo la Presti che si accentra. Accenta la confusione. Invece scarica poi per Pellegrino. Dodoli una gran confusione. Ancora Pellegrino però viene fermato. Il fuori riparo. Arriva la confusione. Parata da Pellegrino. In ribattura. E' il suo nuovo intervento. L'abbiamo visto. E si cerca di liberarsi. Gravissimo. La palla. Cerca un compagno. Lo trova ancora in centro. Bel gioco di gambe. Bellissimo. Il passaggio del numero 23 del Manchester City. Il campo dei 10 metri contro Rasi. Vediamo un po'. Parata. Bravissima. Il grino andrà tirato a dire 10 metri. Grazie. Bellissimo. Bellissimo. Adesso Cazzetta se ne va sulla destra. Taglia tutto il campo. C'è il pallo. Ma l'ho concluso. Quindi riparte. Gioco da 100. 100 che però viene fermato. Non è assolutamente facile. Vediamo un po'. E' arrivata la sessanta. Riparte la partita dopo il time out del City. Quindi riparte Suria che ancora perde palla. Vino Giuffrida adesso in possesso palla. Gabri. Grazie Gabri. Scusami. Possesso palla. Bello il gioco di gambe di 100. E lui queste cose le fa come il paio. Lissimo. Bion. Beccato per la palla perdita alla fine. Quindi riparte Cazzetta. Cazzetta che cerca il doppio passo. Se ne va. E sempre l'acqua di giuffrida. Ancora Roccavò. Quindi sempre ancora di giuffrida che cerca... La rete di giuffrida se l'è cercato. Ha fatto 35 metri di campo. Caudi. Scarello proprio a scarico. Vai Peppe. Adesso riparte velocissimi. Sono 3 contro 1. Sbaglia per la misura del passaggio. Sì, sono proprio un po' proprio deficidiale. Non si è concluso. Paglia per la giuffrida che avrebbe l'aggancio del numero 13 del Siti. Il banto presidente non sono colleghi di lavoro. Sono vicini. No, non più. Dico sono vicini. Due. Due. Ah beh, il bolletto si è ragionato. Sono due aziende di gas. Mi sono confuso. Comunque. Sali, sali, sali. Adesso Pellegrino in possesso calla. C'è un compagno. Invece deve andare per via orizzontali con Gazzetta. Gazzetta che però si fa anticipare ultimamente da giuffrida. Giuffrida a mio parere è finora incredibile la sua prestazione. Ma non è una notizia. Adesso grande conclusione. Si con la bolla, praticamente una bomba da parte di Pellegrino. Ecco il tiro è incredibile. Ci ha lasciato un tipo di stucco. Ah, Pellegrino è brasiliano. Hai visto? Infatti anche i colori, insomma. Sali, pallina, sali, sali. Quello però. Sali. Ha un tiro alla Roberto Carlos, direi, no? Quindi lo presi, lo presi di Pellegrino. Bello l'1-2. Non arriva però perché Gioffrida. Arriva fuori sulla balla. Sono 3-4-1. Bravo Gioffrida per dare la balla a Vittegliere. E ora spagna la vicina del passaggio. Riparte Pellegrini, si prende la Pellegrino. Pellegrino, si prende la Pellegrino. Io assolutamente. Non è scherzato. Il fratto è un lato. In conclusione viene ripattuta dalla difesa del Manchester City. E riparte quindi miliardi. Miliardi per l'accento. Notavo per lo tanto che c'è una grande velocità. Una grande apprezzione da parte dei gelatori della Lazio. Che giustamente devono augurare. Gioco di gambe incredibile di Gioffrida. Cosa ha fatto Gioffrida? Mamma mia. Riparte però. Beppe Rasi ha fatto un palatone. E arriva la conclusione. Insomma è di Costanzo che sono due. Però poi c'è costretto a ripartire da dietro. Quindi riparte Cicco e compagna. Lo trova ancora in Costanzo. Costanzo che viene aggredito dai giocatori della Lazio. Che salgono due o tre volte. Ovviamente esponendosi. Adesso l'errore. Bella adesso la conclusione di questa posizione con Gazzetta. La parata di Tortorella. ha fatto trovare pronto l'estremo di tensione di Gazzetta subito. In Manchester City con Jonathan Gioffrida. Bellissimo il cucchiaio però ha cercato l'avvinezza. Adesso Pellegrino riprendiamo un attimino alle resini. Pellegrino al centro e per la difesa per Gazzetta. Bellissimo il gioco di gambe. Bellissima la conclusione. Ma l'azione è stata assoltuosa. Adesso Medico Stanzo. Adesso Gazzetta che viene fermato. Quindi riparte Chierchia. Sono due o due due. Chierchia che sempre a capo. Se ne va sul pressante destro. Chierchia. L'azione bellissima. Chierchia a capo che la dualizza su un secondo. Bellissimo di Simone Alvesti che ha evitato il gollo quasi sicuro. Quindi riparte. Quindi di fatto gran conclusione. Non mi finisce la domanda. Il problema che come dicevo prima supporta. La passata è tutta. Arriva la rete da parte di Gioffrida. Benico Stanzo con la Gazzetta. Arriva la rete da parte di Gazzetta. 6 a 2. Non lo farei mai. Diciamo un'intusione. Siamo proprio alle ultime. Arriva la rete del 7 a 2. Che finisce. E arriva la vittoria del Siti di Chierchia. Vorremmo sapere subito. Quante semestre di Gioffrida. 7 finale. 4 successi e 3 sconfitti. Ok abbiamo sentito. Toni. Comunica tu il nome della Vincita. Viva. 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 E con un filo e d'innovo. Viva. 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 2014-2015. Il Manchester City di Ciccio Chierchia. Grazie